Spancala la prossima volta Uno Due Aspetta, aspetta Mi fai vedere? Dammi qua, non sono a posto Non è successo niente Grazie Ho detto grazie Prego Quindi hai preso buca? Chi? Io? Ti ha detto che ho preso una buca stasera? Non è che piace andare al ristorante a mangiare da solo Comunque è assurdo Cosa? Solo perché sei brutto devi accettare queste cose Chi è che è brutto? Perché tu pensi di essere un bel ragazzo? Io sono normale, non è che sono brutto Normale Diciamo che sei nella categoria un po' sopra il brutto Grazie a tutti Grazie a tutti